sei uno specializzando una specializzando in ortopedia e tramotologia ecco un po di buoni motivi per iscriversi alla SIOT la società italiana di ortopedia e tramotologia la prima ragione è che la quota di iscrizione per te è di soli 50 euro l'anno fino alla fine della specialità con questo piccolo contributo potrai usufruire di moltissimi servizi e opportunità e potrei entrare nella community di ortopedici più grande d'italia mediante la quale fare network entrare in contatto con i tuoi colleghi e con opinion leader sia nazionali che internazionali avrai anche le opportunità di accedere a percorsi di formazione internazionali infatti ogni anno si supporta con boxe di studio la partecipazione al forte summer camp ma non è solo questo SIOT è anche e soprattutto una società scientifica che ogni anno produce linea guida e mediante le sue commissioni di lavoro supporti soci nella pratica clinica quotidiana e nell'aggiornamento scientifico grazie anche alle riviste ufficiali della società il giornale italiano di ortotedia e tramotologia e il Journal of Orthopedics Traumatology assieme a una ricca selezione di riviste internazionali accessibili online ogni anno il congresso nazionale crea un luogo di incontro per tutti i soci con spazi dedicati alla formazione dei più giovani il luogo ideale per portare i primi lavori parlare davanti a ortopedici esperti in un percorso costruttivo e di confronto la SIOT persegue un'alta missione scientifica ma anche un luogo informale di incontro e confronto tra colleghi una ragione in più per iscriversi subito fin dall'inizio del percorso di specializzazione avrai la segreteria della SIOT sempre al tuo fianco con l'invio di newsletter informative e risposte rapide alle tue esigenze formative e professionali attraverso le convenzioni della società non appena specialista potrai sottoscrivere una polizza per responsabilità civile professionale ad una tariffa estremamente vantaggioso negli ultimi anni la SIOT si sta distinguendo per valori di inclusività crescita sostegno professionale di tutti e tutte siamo stati la prima società in ambito chirurgico ad aver istituito una commissione pari opportunità e medicina di genere il sostegno di questi valori aspetta anche te unisciti a noi da 130 anni la SIOT è espressione della qualità e del livello di competenza degli ortopedici italiani grazie a una forte integrazione con tutti i centri ortopedici sia universitari che ospedalieri è una società che sa guardare al futuro consapevole però delle esperienze dei grandi ortopedici del passato e allora cosa aspetti specializzati nel tuo futuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti